Il soprano Claudia Pavone, il violinista Giovanni Andrea Zanon, la violoncellista Erika Piccotti e la pianista Martina Consonni per un concerto di alta caratura musicale. Al Teatro Petrarca ha così preso avvio la quarta edizione dell'Arezzo Youth Music Festival, nato per dare spazio ai musicisti under 35 e indirizzato proprio ai giovani. Tutti gli artisti che invitiamo al festival sono giovanissimi, sono under 35, ma sono già protagonisti nella scena internazionale del panorama musicale. Sono già artisti che fanno concerti in tutto il mondo, che sono richiesti dai teatri più prestigiosi del mondo e che prendono il loro tempo, che organizzano il loro candario per essere ad Arezzo e per partecipare a questo festival. Il programma è stato studiato per proporre una vastissima scelta musicale. Si parte da Casella, poi ci sarà Ravella, poi Stravinsky, poi ancora i tre sonetti del Petrarca di Liszt, che sono un omaggio alla città, poi Rossini, Bellini, Schubert, Schumann, veramente il programma è enorme e propone una quantità di sfumature incredibile. La voce, il pianoforte, quindi la voce, il soprano e la pianista duettano insieme. E in questo caso vediamo proprio come la musica duetta con la parola, quindi il compositore e il poeta diventano una cosa sola. E spero di essere all'altezza di questo programma, che è veramente straordinario. È quasi la prima volta che mi cimento in una musica da camera, insomma, quindi sono veramente molto emozionata e spero di trasmettere queste emozioni anche al pubblico, perché è stupenda. Che faré a te, mamme, sale in l'uomo. Che faré a te, mamme.